Gli Eurofighter italiani volano in Romania. Un approfondimento sulle attività svolte nel 2021 dal primo reparto manutenzione velivoli. Il capo di stato maggiore incontra gli atleti medagliati dell'aeronautica militare. Bentrovati e buona vigilia di Natale. E' cominciato nei giorni scorsi un nuovo impegno internazionale per l'aeronautica militare che con i suoi velivoli Eurofighter solca i cieli della Romania per assicurare l'operazione di enhanced air policing. L'attività operativa della Task Force Air Black Storm, così si chiama la nuova unità rischierata, dopo aver ufficialmente ricevuto la Final Operation Capability lo scorso 15 dicembre, è stata impegnata in una serie di missioni addestrative con i Big 21 e gli F-16 rumeni. I velivoli del paese orientale si sono alternati insieme agli Eurofighter italiani su una zona dedicata del Mar Nero ed hanno operato insieme ad assetti navali rumeni e francesi presenti nell'area. Le attività addestrative si affiancano al compito principale della Task Force, ovvero integrare il dispositivo di difesa aereo rumeno nell'ambito delle operazioni di air policing promosse dalla Nato, per la salvaguardia e l'integrità dello spazio aereo dell'Alleanza. L'aeronautica militare ha preso parte negli ultimi anni a numerose operazioni di air policing, Islanda, Repubbliche Baltiche, Bulgaria e Romania, a favore di quei paesi cui mezzi di difesa non riescono a garantire gli standard di sicurezza previsti dalla Nato. L'aeronautica militare è stato il primo paese della Nato ad utilizzare un caccia di quinta generazione per operazione di questo genere. L'impegno di uno dei reparti manutentivi dell'aeronautica militare ha raggiunto un importante obiettivo a favore della flotta Eurofighter, il servizio del primo luogotenente Sossio Pezzella. Il bilancio di fine anno del primo reparto manutenzione velivoli di Cameri si chiude in positivo, centrato infatti l'obiettivo che il reparto si era prefissato di assicurare gli stormi che hanno in dotazione il velivolo Eurofighter le 14.000 ore di volo. Un risultato reso possibile grazie ad un progetto iniziato circa tre anni fa, con la fattiva e costante collaborazione di varie articolazioni del Comando Logistico e del Comando della Squadra Aerea, sotto la regia della seconda divisione del Comando Logistico. Il raggiungimento di questo importante traguardo, ottenuto grazie al minuzioso lavoro di riorganizzazione interna, di adeguamento e potenziamento di tutti i fattori di supporto, dalle risorse umane ai mezzi di trasporto, dalle infrastrutture, dalla revisione del contratto di supporto industriale all'introduzione di nuovi processi lavorativi, con la creazione di quattro nuove baie manutentive, due presso il primo reparto manutenzione velivoli in aggiunta alle sei già esistenti e due presso il 51esimo stormo. Il ruolo importante, che resta comunque risultato di uno sforzo corale, è stato svolto dal primo reparto manutenzione velivoli di Cameri, ente di riferimento funzionalmente sovraordinato per la gestione tecnico-logistica e manutentiva della flotta F2000, tornato ed F35. Essere a supporto di una capacità operativa in prontezza 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, richiede al reparto, per quanto articolata sia la sua struttura e complessi i suoi processi, di rimanere snello, flessibile e proattivo nel prevenire e gestire le innumerevoli problematiche che si possono verificare. Lunedì 20 dicembre a Roma, il generale di squadra aerea Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ha incontrato per congratularsi dei risultati raggiunti una delegazione di 12 atleti che nel 2021 hanno conquistato medaglie nelle competizioni olimpiche e mondiali. Il capo di Stato Maggiore, durante il suo colloquio con i giovani atleti, ha ricordato come siano stati un bel esempio per l'aeronautica militare. All'incontro era presente anche il generale di brigata aerea Adamo, presidente del Centro Sportivo Aeronautica Militare e capo del quinto reparto dello Stato Maggiore, oltre ad altre autorità di vertice della Forza Armata. A far compagnia gli atleti che hanno portato il tricolore alle Olimpiadi di Tokyo e in altre gare di prestigio, erano presenti all'incontro anche i presidenti delle federazioni sportive. Videonews termina qui, arrivederci alla prossima edizione. Buon weekend! Grazie a tutti!